La comunità dei Vallo della Lucania e del comune di Castellabate piangono la scomparsa di Francesco Giannella, puntato scelto della compagnia Carabinieri di Vallo della Lucania. Francesco aveva 49 anni ed era residente a Vallo della Lucania, ma originario di Castellabate. Reduce da un intervento chirurgico, ieri mattina si è sentito male e nel tardo pomeriggio è venuto a mancare. La morte è avvenuta per un'embolia purtroppo fatale. Lutto nelle due comunità cilentane nell'arma dei Carabinieri di Vallo della Lucania che perdono un collega professionale onesto e benvoluto da tutti.